E ricambia ancora il tempo, vedete che il nostro amico maestrale con i suoi mitici tre giorni nasce, pace e muore, ci ha assicurato un bel weekend abbastanza frezzante, temperature abbastanza fredde, mare in burrasca, stamattina si esce sempre con la giornata con sole, però attenzione, le nuvi sono in agguato, perché è proprio come l'autunno, è in arrivo questa volta una perturbazione atlantica, stamattina, come ce ne accorgiamo, con l'innalzamento delle temperature, non più i 14-15 gradi di sabato e domenica, ma oggi toccheremo addirittura 21 gradi di massima nella giornata di oggi, tanto sole, qualche nube qua e là, venti a caratteristico locali, mari poco mossi, con un sole che è sorto alle 6.37 e ci regalerà praticamente una durata del giorno di 9 ore e 51 minuti fino alle 16.27 quando tramonterà. La perturbazione atlantica, vi dicevo, è in agguato, ci interesserà già da domani martedì, quando ci andremo decisamente a coprire, le piogge da domani sera, martedì e anche mercoledì, sono due giornate in cui il vento di Scirocco la farà da padrona e senz'altro delle precipitazioni che ci costringerà ad andare in giro con l'ombrello a seguito e poi attenuazione a partire da mercoledì sera in poi, però è una storia che vi racconteremo poi pian pianino col passare delle giornate.